Nel segno di una poesia di forme essenziali e di epocalittica tensione, Massimiliano Mandorlo sa rielaborare nella sua lingua, scheggiata e sofferente, la grande lezione dell'ultimo Mario Luzi. A scriverlo è Giancarlo Pontigia nella prefazione dell'ultima raccolta di Mandorlo intitolata Nella pietra ed edita da Moretti e Vitali. Le puntate di Poetando in onda alle 23.10 di sabato 2 e domenica 3 maggio sono dedicate proprio a Massimiliano Mandorlo. Non è solo un libro urbano però c'è tanto di città, c'è la città ma c'è al tempo stesso anche la natura e c'è questo tema forte della lotta, del combattimento e soprattutto anche della catabasi nel senso di discesa, discesa nelle viscere della città che ad esempio in vari punti è la stazione centrale vista quasi come una balena c'è il tema delle macerie, macerie che allo stesso tempo però sono unite alla rinascita quindi dalla macerie c'è sempre come dire una sorta di speranza e un'immagine forse forte quando penso a questa ricerca di resurrezione e combattimento è quella dell'icona bizantina dell'anastasi con il Cristo che scardina le porte degli inferi per risorgere.